I risultati non arrivano e non si può guardare più alla testa della classifica, ma bisogna pensare a chi sta dietro. Questa è la paradossale situazione del Crotone, Reduce alla sconfitta di Cremona. La squadra di Oddo intanto torna però a vivere un'atmosfera da Serie A. Oggi pomeriggio infatti si giocheranno i sedicesimi di Coppa Italia, Aldallara di Bologna. La Coppa chiaramente non può essere un obiettivo, ma superare la formazione emiliana regalerebbe gli ottavi contro la Juventus. Una prospettiva certamente intrigante è quella di sfidare Ronaldo e compagni, ma la gara di oggi servirà soprattutto per trovare la condizione migliore in vista delle prossime partite di campionato. I risultati non arrivano, ma io sono molto fiducioso. Sono sincero, dopo la partita con il Cosenza mi ero preoccupato un po', ma poi nell'ultima partita abbiamo verificato che è stato un incidente di percorso. È vero, i risultati non arrivano, siamo tutti scontenti, a partire da noi, con i tifosi, la società, tutti quanti, ma a patto che continuiamo con la determinazione che abbiamo avuto nell'ultima partita, sicuramente poi raccoglieremo i frutti di quello che stiamo seminando perché stiamo lavorando bene e stiamo facendo le cose che dobbiamo fare. Sicuramente poi il lavoro paga sempre, i risultati arriveranno.